L'importante convegno organizzato presso l'hotel Excelsior Chia Pesaro, progetto turismo, tanti gli interventi e mancato quella dell'onorevole Daniele Santanchè che non è potuta essere ospite nella nostra città, tutti presenti gli altri a partire dal presidente Aquaroli. Visti i risultati delle ultime stagioni i presupposti sono buoni, è chiaro che dobbiamo continuare nella promozione, implementare soprattutto la possibilità di portare turisti stranieri tramite dei servizi, i voli aerei sono importanti, vanno sicuramente anche essi implementati insieme alle corse ferroviarie. Poi c'è bisogno di riuscire ancora a destagionalizzare di più, c'è un clima che è positivo, c'è sicuramente molto entusiasmo intorno al settore del turismo perché stiamo riscoprendo il turismo come anche strumento di crescita collettiva della nostra comunità, di brandizzazione della nostra regione che sta riscoprendo un ruolo che non aveva mai avuto e questo è sicuramente molto positivo. Questo convegno nasce praticamente da un lavoro fatto dal nostro partito con la filiera turismo, abbiamo incontrato tutte le varie categorie che compongono questa filiera partendo dagli albergatori, bagnini, ristoratori, marittimi. Questo dovrebbe essere appunto una sintesi di tutto il lavoro fatto che è stato fatto anche in vista delle prossime amministrative perché vorremmo inserire nel programma un programma appunto dettagliato che scaturisce anche da quelle che sono le esigenze degli operatori del settore. L'importante è avere delle sinergie, creare dei contatti nei territori affinché i vari operatori non creino un clima di competizione ma di collaborazione e la promozione che deve fare la regione Marche è fondamentale per tutti i territori per far sì che questi risultati poi vengono accaduti sui territori. Pesaro è pronta per la capitale della cultura, Pesaro è una città bellissima che ha un potenziale enorme che non sono sicuramente io a dover spiegare oggi a voi. Ora bisogna mettere Pesaro all'interno di un contesto marchigiano che essendo l'unica regione in Italia che si aggrina a provare ha degnotato negli anni sicuramente una complessità a ragionare in maniera aggregata e collettiva. E questo è un limite perché poi andare ad aggredire i mercati, i circuiti internazionali soprattutto ma anche quelli nazionali da soli come piccole dimensioni significa avere difficoltà anche proprio dimensionali. L'auspicio ovviamente di tutti è che la stagione sia effettivamente sulla dirittura d'arrivo. Era partita bene perché avevamo avuto prima i ponti primaverili erano andati discretamente bene, c'erano molte prenotazioni, molte richieste di informazione. E poi è successo il finimondo insomma con l'alluvione, il coinvolgimento anche della provincia di Pesaro Urbino nell'immagine deteriorata della costa adriatica. E quindi si è fermato tutto, molte cancellazioni e soprattutto quelle che erano le aspettative degli albergatori che si immaginavano dopo il 2 giugno una settimana di fermo ma non un fermo così lungo. Poi è arrivato insomma il bel tempo e adesso le cose sembrano che vadano per il meglio, anche nell'entroterra, anche Urbino c'è un grande movimento di persone, tante iniziative. Quindi finalmente speriamo che vada per il verso giusto. È un peccato per chi come noi da anni lavora per la destagionalizzazione, cioè per puntare ad un turismo 365 giorni all'anno e ritrovarsi invece a dover confidare che almeno il mese di luglio e di agosto vada bene. Grazie a tutti.